I tre animali più forti al mondo. L'ultimo è spaventoso. Numero 3. Elefante africano. Gli elefanti sono tra gli animali terrestri più forti. Possono sollevare oggetti incredibilmente pesanti con le loro proboscidi e spesso sono considerati i più forti del regno animale. Numero 2. Gorilla. I gorilla sono tra i primati più forti al mondo. Sono in grado di sollevare pesi considerevoli e hanno una struttura muscolare impressionante. Prima di rivelare il numero 1, hai già visto video dei luoghi proibiti? Sul profilo del canale trovi il link per video più lunghi. Numero 1. Scarabeo rinoceronte. Questo piccolo insetto è sorprendentemente forte. È noto per essere in grado di sollevare oggetti fino a 850 volte il suo peso corporeo, rendendolo uno degli animali più forti in termini di forza relativa. Questi sono solo alcuni esempi di animali noti per la loro forza straordinaria. Qual è il tuo preferito? Fammelo sapere nei commenti.